Ciao a tutti! Oggi vediamo come possiamo far crescere i lamponi. Allora, bisogna fare così, praticamente così. In un altro modo, non è giusto. Facciamolo vedere bene. Poi... Poi... Vediamo questo qua, come non è. Bisogna di più bagnare, se no diventa così. E poi è diventato così. Poi noi usiamo le canne. Voi usate quello che volete, però sicuramente è lungo. E poi bisogna avere... Bisogna avere... Poveri... 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 Ficchi... E così... Bisogna così fare... La canna fare così... Tenere... 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 Così... Così si fa... E così potete continuare. E... E tutto ciò ciò... E tutto ciò ciò... E tutto ciò ciò... Se vi è piaciuto... Così...